amici buonasera e riprendo dopo qualche giorno una velocissima disamina di ciò che è successo ma mi ha colpito in particolare un episodio e mi riferisco a anno zero dell'ultima puntata speriamo di vedere le prossime su un'altra emittente più seria in quella serata c'è stato ser brunetta il quale testualmente rivolgendosi a bersani ha detto mi fate pena il vostro partito mi fa pena te bersani mi fai pena io sono rimasto al libido uno che ha il coraggio o l'incoscienza di portare in giro una faccia come la sua che non si sa bene quale espressione abbia se ride se piange e si rivolge a qualcun altro dicendoli che gli fa pena avete capito a brunetta fa pena qualcun altro ma si è guardato mai nello specchio forse sono troppo alti arrivederci